Il nostro telegiornale 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 a guardare questo messaggio, poi ricordiamo alle 16.30 ci sarà la marcia che partirà da Piazza dell'Annunziata e arriverà a Deferrari. E quindi con questo vostro messaggio di questa giovane volontaria della comunità di Sente di Gidio, Ilaria Nucifora, vi diamo il rivederci alle prossime edizioni del nostro telegiornale.